Ed ora il consueto appuntamento con l'arte lo cura Liletta Fornasari. Artista faentino ma di adozione ormai toscano, Giancarlo Montuschi presenta gli ultimi lavori presso lo spazio 85 di Via Cavour fino al 2 novembre con una personale curata da Daniel Villicana d'Annibale che appunto è incentrata, e lo dice il titolo stesso, sul racconto pop di Montuschi. 40 Years of Pop Art è il titolo della mostra, 40 anni di attività, 40 anni di racconto. Non è un caso che Montuschi sia stato definito un pop artist che sperimenta, che ricerca. Le tappe dei suoi 40 anni sono segnate da evoluzioni, da evoluzioni all'interno comunque di una grande voglia, o la voglia di raccontare e di raccontarsi. E in questa occasione, nell'occasione appunto di questa terza mostra in Arezzo di Montuschi, egli stesso vuole aggiornarsi sui grandi eroi dell'animazione americana, la lunga storia dell'animazione americana, non escludendo ovviamente il mitico Walt Disney. Il racconto fatto di nuovi eroi, esattamente come la pop art era nata in una dialettica, in un contrasto, in una voglia di rinnovare eroi che ormai al tempo erano diventati assolutamente negativi. Una mostra fatta di colori, una mostra fatta di immagini velocissime, di percezioni, ma allo stesso tempo di grande talento, espressione quindi di una grande e importante capacità disegnativa.